La zaffata lo investì a tradimento come un colpo basso. Era penetrante eppure lieve, dolce e femminile, ma non nauseante. Un aroma che gli tittillò la memoria spalancando usci che lui aveva serrato da molto, molto tempo. Cristoforino guardò la donna seduta accanto a lui nella sala d'aspetto del medico, annusando in modo discreto. Proveniva da lei. Ispezionò il locale con lo sguardo e con l'olfatto, ma non c'era dubbio, il profumo proveniva da quella signora. I ricordi strariparano dai bacini della memoria come l'acqua da una diga stracolma. Il primo a raggiungerlo fu quello di un altro profumo. Questo sì, nauseante ed invadente. Erbe. Erbe orientali. Un negozio gestito da vietnamiti in boulevard Saint Germain, a due passi dalla pezioncina tenuta anch'essa da vietnamiti, dove loro due alloggiavano. Il volto dell'altra metà di quel loro due, gli venne incontro e ingigantì, invadendo la mente. Appoggiò la rivista che stava sfogliando sul tavolino e se stesso allo schienale della seggiola. I ricordi, ora, lo stavano sopraffacendo e si sentiva barcollare nonostante fosse seduto. Profumi, odori, aromi. Il sole tiepido di un lontano settembre parigino. Lei. Insieme a lei fra l'aroma delle crepes e il profumo degli hot dog, l'odore dei bistrò. Come era dolce il profumo della sua pelle, come lo amava, come lo inebriava. E come era dolce il suo sguardo, caldo, avvolgente, come il suo modo di far l'amore. L'aveva amata di un amore totale. Si era tuffato in questo sentimento lasciandosi travolgere. Attraverso di lei aveva amato tutto. Il rumore dei metrò, la sporcizia del quartiere latino, la maestosità di Notre Dame, lo squallore dei clochard, la miseria dei quartieri più poveri. Quanti anni erano passati? Trenta? Quaranta? Una vita? Si può dimenticare un amore così? Ci aveva provato. E' illuso di esserci riuscito. Si sente bene? La voce proveniva dalla signora al suo fianco. Ma lui parve lontanissima, nello spazio e nel tempo. Sì, riuscì a bofonchiare, grazie. Sto bene. Signor Colombotto, tocca a lei. La voce del medico pareva provenire dall'oltretomba. Sulla porta dello studio barcollò. Dovette aggrapparsi alla maniglia per non cadere. Un'ultima folata di profumo, lieve ed eterea, come il lembo del velo di un fantasma, lo accompagnò nello studio, dove si lasciò cadere sulla seggiola di fronte alla scrivania. Allora, signor Colombotto, come va la sua dieta da uccellino? Cristoforino lo gelò con un'occhiataccia. Non oggi! gli urlò mentalmente senza emettere un suono. Oggi non sono in grado di reggerti.